Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo stupito su video di L'OlettaFive Channel infatti in caso io mi sono lavato i capelli quindi ho tipo wow e allora cosa è successo ieri? quando sono andata a lavorare ho ricevuto una bella notizia quella famosa ragazza che non poteva più venire la sto sostituendo io quindi come è andata ieri? Il mio primo giorno da solitaria sette ore devo dirvi che è andata piuttosto bene ero stanca morta, la schiena distrutta, fino alle cinque quando si è fatto l'orario della cena è successo un manicomio perché se ne sono accavallate il cibo, le terapie e tutto il resto giustamente la responsabile mi ha detto dice Giole tu devi crearti il tuo metodo e quindi io oggi che farò di nuovo il pomeriggio farò la seguente avviserò a tutti il mio metodo, gli servirò la cena quando gli servo la frutta, dopo la frutta incomincio a dare tutte le terapie e a fare a tutti l'insulina punto e basta anche dice se i piatti rimangono sopra la tavola che li levi dopo ma cena, terapie, piatti e così devo fare io sennò veramente non si capisce niente perché poi lo fanno apposta mi hanno visto nuova non mi conoscono non hanno fiducia in me e quindi di conseguenza mi insultavano mi sfottevano davanti gli anziani sono veramente tremendi perché rispetto ai bambini diciamo hanno a volte quella lucidità quindi te lo fanno proprio apposta mentre il bambino fondamentalmente il bambino quindi vabbè quindi incrociamo le dita anche per oggi ho cucinato ho fatto un casino di cose sono uscita alle 9 sono tornata a casa ragazzi alle 9 e mezza di sera K O proprio K E O oggi è la stessa cosa mentre domani farò per la prima volta da sole il turno di mattina quindi facendo la prova del turno di mattina e poi il turno di notte io in linea di massima già so fare tutto nell'arco di questa stessa settimana il problema è che avevo queste due notti di seguito da fare e poi finalmente due giorni di riposo inizierò il quarto pomeriggio quindi penso che mi riposerò alla grande in tutto ciò ovviamente domani dovrò anche un pochino dar conto alla mia vita sociale e privata e quindi appena uscirò di lì tornerò a casa e poi uscirò di nuovo perché appunto l'indomani farò la notte quindi comunque avrò un pochettino di relax finalmente e credetemi che quando si lavora e lavorate, lavorate, lavorate quando avrete quel momento di relax ve lo volete godere al 100% ed è una cosa secondo me bellissima il coniglio stanotte mi ha fatto dormire ma alle 6 del mattino si è svegliato quindi l'ho preso e l'ho messo a letto con me e si è dormendo con me ho pulito la casa ho fatto un casino di cose e niente sono arrivata adesso ho deciso come orario tra poco mi metto a cucinare e niente e niente questo è quanto vedete una loletta un po' adulta in questi video molto movimentata ma nonostante ciò che sto continuando lo stesso a fare i video purtroppo da ora in poi non ci saranno più i videogaming o comunque se cazzeggio non voglio rilassare quindi non penso che farò video però ci saranno vlog così filosofici recensioni magari di mangiare spero di fare qualche viaggio magari ora non lo so nel mese di aprile in primavera quindi continuate a seguirmi perché io anche nonostante tutto il canale non lo abbandono perché è molto importante